Il campionato del mondo nel quale io sono stato secondo, quando Bruno e Ermani vinse a Ustica andammo a Libari la prima giornata, lui prese 5 dotti che si prendono praticamente all'aspetto. Per noi il dotto era una cernia che noi raramente prendevamo perché siccome non si intanava non ci perdevi tempo. Mentre invece Bruno che andò tra Libari e Vulcano scendeva bene, si mise lì e all'aspetto si impigliò 5 dotti e fu primo fin dalla prima giornata, poi io ero in buona posizione, mi pare che ero quarto, la seconda giornata io ho fatto una pescata spaventosa, gli hai 17 pesci, 15 dei quali erano cerni e quando arrivai sulla Caralis dove ci stava tutto lo staff, stavamo tutti lì ospite della nave eccetera eccetera Ferraro disse, ah pesiamo i pesci di Ripa, pesiamo i pesci di Ripa, perché tanto ha vinto, ha stravinto, sembrava che fosse... avevano visto gli altri cernieri. Bruno Ermani che teneva due cernie, volle essere pesato per ultimo e mentre a me mi hanno pesato con la stadera da quattro cerni alla volta, cinque cerni alla volta, lui si fece pesare le cerni sue e quei pesci che aveva, volle la bilancia orologeria che dovessero prendere da terra e portarla a bordo eccetera eccetera e io ho perso quel campionato, quel titolo mondiale per poco più di 400 grammi di differenza, quindi mi trovai secondo un'altra volta. Grazie.